Calo dei reati in genere e in particolare dei furti è quanto emerge dal rapporto annuale del comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino che tiene conto anche del periodo di lockdown. Sul territorio l'arma è presente con tre compagnie, Pesaro, Urbino e Fano, dalle quali dipendono 34 comandi stazione. Nell'anno appena concluso è stato registrato un calo del 20,4% dei delitti denunciati. Si tratta di oltre 5.600 reati a fronte di più di 7.100 del 2019. Costanti invece i casi di estorsione che lo scorso anno sono stati 34 mentre sono diminuite le truffe e le frodi informatiche. Inoltre è stato rilevato un aumento delle rapine, 41 in totale nel 2020 a fronte delle 26 dell'anno precedente, in particolare quelle avvenute in strada passate dalle 9 alle 25 dello scorso anno. Per l'azione di prevenzione l'arma dei carabinieri ha svolto circa 21.000 servizi con quasi 81.000 controlli anche sul rispetto delle norme anticontagio. In quest'ultimo ambito sono state controllate oltre 55.000 persone, delle quali 1.332 sanzionate e 20 denunciate all'autorità giudiziaria. 6 per ipotesi di falso, 3 per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena o positive al virus e 11 per altri reati. Sono più di 16.000 invece le attività commerciali controllate, di cui 5 sanzionate, e 16 le imprese chiuse dal nucleo espittorato del lavoro. Sulle strade poi sono state accertate 10 violazioni per guida sotto l'effetto di stupefacenti e 81 in stato di ebrezza alcolica. Per l'azione di contrasto i carabinieri hanno dato un nome agli autori di oltre il 26 per cento dei reati denunciati. In totale sono stati eseguiti 194 arresti e sono state denunciate quasi 2.000 persone. Infine, nel contrasto dello spaccio di traffico di sostanze stupefacenti, 60 persone sono state arrestate in flagranza di reato, 10 su provvedimento dell'autorità giudiziaria e 75 deferite penalmente a piede libero. Segnalati anche 159 assuntori di droga e sequestrate tutte le tipologie di stupefacenti. Fra queste spiccano agli oltre 3,5 chili di cocaina.